Un saluto dalla redazione di Roma Servizi per la mobilità, questa sera al Colosseo si celebrerà la via Crucis. Per quel che riguarda la viabilità, le chiusure al traffico e la deviazione di otto linee di bus sono previste a partire dalle ore 13, dal pomeriggio possibile chiusura per la fermata metro di Colosseo. E poi domenica celebrazioni per la Pasqua in Vaticano, previsti di vieti di sosta e possibili temporanee chiusure sulle strade attorno alla Basilica di San Pietro. Per tutti gli aggiornamenti romamobilita.it